Adesso facciamo un break e presentiamo uno dei servizi che avevamo proposto, che è l'intervista con Paolo Ferrari, il responsabile di Gioco Solutions, che è l'azienda che produce in Italia pannelli solari flessibili, perché lui si è presso la responsabilità di fornire i pannelli solari per rimpiazzare quelli vecchi della barca Solare Davide, costruita da Senofonte Ambrosini nel 1993. Abbiamo parlato con lui nel porto dell'Overe, dove è venuto anche il nostro collaboratore Giuseppe Prestini e sentiamo quello che ha detto e come stanno procedendo i lavori per dare una lavata di faccia, come dico io, a questa barca Solare storica Davide. Siamo con Paolo Ferrari al porto di Lovere con i primi rilievi che precedono al cambio dei pannelli della barca Solare Davide. Paolo Ferrari è il responsabile dell'azienda Gioco Solutions, con sede ad Avigliana in provincia di Torino, e gli chiediamo un racconto di quello che si prevede di fare su questa barca. Buongiorno, prevediamo il punto di mettere questi pannelli fotovoltaici flessibili monocristallini, 25 pannelli da 30 watt collegati in serie per rendere la barca totalmente autonoma. Questa ovviamente è una prova per capire un attimino le dimensioni, per capire un attimino i collegamenti e il prima possibile cercheremo di concludere i lavori per rendere la barca Davide totalmente autonoma. Non è la prima volta che Gioco Solutions lavora nel settore della nautica, perché siete stati anche sponsor di un importante team belga che ha corso a Monte Carlo. Sì, abbiamo fatto una manifestazione universitaria con tante barche elettriche, ci siamo classificati anche tra i primi tre, quindi abbiamo avuto un discreto successo, sempre montando i nostri pannelli fotovoltaici flessibili, abbiamo avuto ottime soddisfazioni. Come è venuto in mente di fabbricare questo tipo di pannelli flessibili? E bisogna dire che vengono costruiti interamente ad Avigliana, quindi sono completamente italiani, in momenti in cui risulta difficile costruire qualcosa in Italia. Sì, diciamo che l'idea nasce dall'ingegnere Gustavo Gioco, che è l'inventore del pannello flessibile nel mondo, diciamo, al brevetto. Ci siamo ritrovati dopo anni, abbiamo aperto questa azienda e ci siamo messi pian pianino a fare pannelli fotovoltaici flessibili. E poi stiamo sviluppando anche un discorso di mobilità sostenibile, con biciclette elettriche, appunto, barche elettriche, veicoli elettrici, tutto quello che riguarda la mobilità sostenibile. Ritornando a parlare di Nautica, collaborate anche con GoGo di Garda Solar. Sì, abbiamo sviluppato con loro la loro GoGo Gioco Solution, abbiamo fatto una barca appunto con loro, abbiamo messo i nostri pannelli, stiamo avendo anche le ottime soddisfazioni. Speriamo di continuare con loro. Parlavamo di pannelli solari flessibili, possiamo vedere quanto sono flessibili? Facciamo un primo piano. Allora, se collegate, la flessibilità è del 25%, come si può essere ovviamente un pannello piccolino, quindi più che la flessibilità, la cosa molto importante di questi pannelli è il peso. Sono sei volte più leggere di quelle tradizionali, quindi hanno tantissimi tipi di applicazioni, che vanno dalla nautica al camper, ai bivacchi d'alta montagna, a tutte situazioni dove appunto il peso è fondamentale. Va detto che non si possono piegare a 90 gradi. No, hanno una curvatura del 25%. Invece dicevi in più di un'occasione che sono competitivi a livello di edilizia. Non sono competitivi nell'edilizia tradizionale. Diciamo dove ci sono problemi di portata peso, come nei paesi in Africa o in determinate situazioni, sono molto competitivi. Un elemento importante, diciamo che questi pannelli sono nati proprio per i paesi del terzo mondo. Perché motivo? Perché dove ci sono problemi di trasporto c'è una grossa rottura di pannelli. Quindi diciamo che nel trasporto un 20% di pannelli veniva danneggiato. Questi qua essendo appunto con dei materiali leggeri, praticamente diminuisce notevolmente il rischio di danneggiare il pannello. Il principale mercato qual è attualmente? Il principale mercato è, abbiamo vari tipi di mercati, abbiamo mercato canadese, australiano, americano, nord Europa e poi anche l'Italia comunque ci dà belle soddisfazioni. Fabbricate diversi tipi di pannelli o soltanto pannelli di questo tipo? No, facciamo due tipi, abbiamo due tipi di tecnologie. Il monocristallino che è utilizzato principalmente per la nautica e il policristallino che viene utilizzato per il camper e per l'edilizia. Grazie Paolo di queste interviste e di queste dichiarazioni e ovviamente della collaborazione con Electric Motor News e con la barca solare Davide che tra poco sarà soggetta, come dico io sempre, ad un'importante lavata di faccia per renderla fresca e per farla rivivere tenendo conto della sua età. Ricordiamo che è stata costruita nel 1993 e che è stata registrata con il numero 1 nel registro italiano Barche Solari quindi sarà anche un bel veicolo comunicativo per Gioco Solutions per farvi conoscere nel mondo. Grazie a voi, speriamo di fare un bel lavoro. E così dall'Urano noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, puntata numero 25 del 2015 di Electric Motor News il primo e unico programma televisivo italiano dedicato esclusivamente alla mobilità alternativa ecologica e non cambiate canale perché tra poco sentiremo la parola di Silvia Bugini e di Eugenio Garavaglia che sono mamma e papà di questa famiglia e che sono coloro che portano avanti il messaggio dell'auto elettrica. Poi vedremo anche il servizio della prova della Volkswagen Golf elettrica. A tra poco. Grazie.